Al termine della consultazione online il Movimento 5 Stelle ha scelto un'avvocatessa chietina di 36 anni, Sara Marcozzi, come candidata alle prossime regionali. Buon pomeriggio, apriamo con la politica, elezioni regionali, Sara Marcozzi sarà la candidata del Movimento 5 Stelle per l'appuntamento delle amministrative. Le nostre primarie sono genuine, dice e dimostrano come in politica non servono le quote rosa. Roberta Mancinelli. Sono emozionata, è una grossa responsabilità ed è la prova che le quote rosa non servono quando sono veramente i cittadini a scegliere i propri candidati. 36 anni, avvocato da almeno due, impegnata nel Movimento 5 Stelle con base a Chieti. Sara Marcozzi lancia la sfida al governatore uscente Gianni Chiodi, allo sfidante per il centro-sinistra Luciano D'Alfonso e a Pio Rappagnà che corre come leader del Movimento Città per Vivere. Marcozzi passa con 346 preferenze su 1126 votanti e a chi mette in dubbio il meccanismo delle primarie online risponde. Nelle primarie degli altri partiti c'è sempre un candidato che emerge e degli altri candidati che fanno finta di partecipare alle elezioni. Noi partiamo tutti dalla stessa base, siamo tutti sconosciuti, siamo tutti semplici cittadini e sono sicuramente più genuine le nostre di primari. Le 5 Stelle nel suo programma? Ma quello che vogliamo fare è rivoluzionare la regione, quindi rivedere il tema dell'ambiente, dei rifiuti, sviluppare il lavoro grazie alla bonifica del territorio, tagli delle spese, soprattutto sviluppo del turismo. La cosa che ci interessa di più è valorizzare il nostro territorio che troppo spesso è sottovalutato e ci viene raccontato dai politici che l'unico modo per sviluppare la regione, creare posti di lavoro è ad esempio con degli impianti petroliferi, questo non ci interessa. Al Consiglio regionale non siete mai entrati ancora, quello che fate in Parlamento però a molti sembra ostruzionismo e basta, ci spiega quale sarà la linea per la regione? Ma in realtà noi facciamo costruzionismo che è qualcosa di ben diverso rispetto all'ostruzionismo classico, quello che facciamo è una vera opposizione, entreremo al Consiglio regionale, ci entreremo questa volta con la maggioranza perché l'Abruzzo può essere la prima regione a 5 Stelle e sicuramente lo sarà. Se non dovesse essere così collaborerete col governatore eventuale? Sui buoni progetti noi collaboriamo sempre.